Il segno del toro, ottima luna quella che transita, proprio lì nel vostro segno in aspetto con Plutone, in aspetto con Giove. È una luna che vi permette di ottenere dei risultati magnifici sotto tutti i punti di vista, in particolare è una luna che parla d'amore, di sentimenti, di grande passionalità, di grande ottimismo, colpi di fulmine anche per i più giovani. Mercurio è entrato nel segno del cancro e da quella posizione riesce ad illuminare anche la vostra mente. Quindi avete mente e cuore in perfetta sintonia, ecco che allora chiaramente riuscirete a prendere delle decisioni ideali, delle decisioni sempre giuste e corrette, sia per la vita familiare, sia per la vostra vita sentimentale, e poi avete un fascino davvero incredibile in questo momento, non passate in osservare. Quindi riceverete degli inviti, ecco qui mi riferisco chiaramente, magari alle persone più giovani, ma non solo, e per tutti c'è una possibilità. Sotto questa luna, andiamo al segno del cancro.